I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno arrestato un 33enne del posto poiché responsabile dei reati di mancata esecuzione dei provvedimenti adottati nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria. Il giovane infatti era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con la permanenza presso la propria abitazione dalle ore 19 alle ore 7. Durante il mese di giugno però in più circostanze ed in onari otturni il 33enne è stato sorpreso dai militari dell'aliquota radiomobile presso alcuni bar della zona dove si intratteneva bere e frequentare persone sino a notte inoltrata. Di qui il provvedimento restrittivo eseguito dai militari che hanno trasferito il giovane presso la casa circondariale di Vallo della Lucania a disposizione dell'autorità giudiziaria.